l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un daily cogito alla volta e buonasera a tutta la community di daily cogito benvenuti in questa live in cui abbiamo il piacere di ospitare un ormai direi vecchio amico di daily cogito marco è un po di tempo che non ci si vede i cogito studios però insomma ormai direi che sei un vecchio amico mio e anche di daily cogito ben trovato come stai caro ciao ciao ric ben trovati a tutti mi spiace di non essere lì a schio sto bene mi sto divertendo sto facendo tante cose un po troppe però insomma sto bene e infatti infatti abbiamo provato in ogni modo a incastrare un tuo viaggio qui ma ormai ormai sei già proiettato nell'empiro dei poteri forti peraltro io ci tenevo a fare il live allora ti devo bacchettare anche te perché io avevo dato una data fine luglio ma tu eri già giustamente nelle tue meditatissime vacanze quindi non mi attaccare che ti attacco anch'io no va bene va bene peraltro bisogna stare attenti qua a dare informazioni delicate marco perché a quanto ho capito questa questa live è intercettata giusto cioè nel senso noi siamo 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 sotto lo sguardo del grande fratello se non sbaglio è giusto siamo on air io non so se abbiano sospeso dopo la mia denuncia effettivamente quello che ho fatto è di rendere pubblico le informazioni dalle quali ero stato raggiunto con una segnalazione anonima ma abbastanza circostanziata che in qualche modo ho verificato anche se non ho potuto diciamo per coprire la fonte non ho potuto portare delle testimonianze delle prove materiali eh del essere sottoposto a intercettazione totale captazione diciamo controian con la ricerca di informazioni che potessero portare un'accusa per associazione sovversiva va detto che il ministero la presidenza del consiglio con alfredo mantovano ha smentito immediatamente e totalmente eh questa informazione che pure avevo verificato devo dire che per me anche questo è già importante perché eh l'obiettivo del rendere pubbliche le informazioni che io avevo era proprio quello di tutelarmi da eventuali utilizzi stile dossieraggio di intercettazioni nei miei confronti eh il fatto che eh la presidenza del consiglio abbia scludo nella maniera più assoluta che ciò sia vero a prescindere dal fatto se abbia ragione io diciamo se abbia ragione loro mi mette più tranquillo perché esclude a questo punto anche la possibilità di utilizzo di eventuali informazioni visto che queste informazioni sicuramente ci dice la presidenza del consiglio non ci sono sono più tranquillo perché a questo punto so che non verranno utilizzate io ricordo che quando ho visto il tuo video eh un po' cioè nel senso non sapevo bene cosa credere subito subito ho detto ma questo questo è un deep fake eh come come quello di di Beppe Grillo che ha eh che che si è messo a parlare in cinese ho detto qui c'è Marco Cappato che è stato assolutamente hackerato e fake 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 doppiato in realtà poi ho scoperto appunto che c'era questa discussione e la cosa era reale un po' un po' mi ha fatto strano perché eh beh intanto posso dirlo sono cose che non ti aspetti da un governo quello Meloni ma non ma non perché sei il governo ma perché perché è un governo di cui sono venuti fuori talmente tante cose eh abbastanza direi di bassa lega che non ti aspetti che si mettano a complottare su queste cose qua mi ha fatto tanto ridere a pensare a Giorgia Meloni che ti ascolta e dice vediamo a Marco Cappato cosa dice oggi è una cosa che mi ha suscitato illarità dall'altra parte però mi rendo conto che è una cosa anche molto grave cioè nel senso sicuramente a te questa cosa ha disturbato non poco eh però ci ricorda ancora una volta che in effetti eh gli apparati dello Stato entrano nelle nostre vite in modi eh che riteniamo ancora da secolo scorso cioè è una cosa veramente assurda questa allora io eh ho quattro procedimenti giudiziari che pendono sulla mia testa e con delle imputazioni potenziali molto pesanti perché si tratta di un reato che va da un minimo di cinque a un massimo di dodici anni di carcere quindi ovviamente eh diciamo che sono sotto i riflettori eh della della giustizia quello che mi ha naturalmente eh stupito e contrariato delle informazioni che ho ricevuto ma qui ovviamente non avendo prove io non voglio dare per scontato con chi ci ascolta che abbia ragione io o eh non avendo prove non potendo eh mostrare delle prove non pretendo che mi si creda quello che mi ha contrariato è leggere di queste ipotesi di associazione sovversiva perché lo voglio ricordare in questi quattro procedimenti giudiziari io mi sono sempre autodenunciato è notizia di l'altro ieri che la procura di Milano ha chiesto la mia archiviazione della mia posizione per due di questi procedimenti giudiziari di queste eh indagini eh si tratta di azioni che io ho sempre portato avanti alla luce del sole nell'aiutare persone ad ottenere il cosiddetto aiuto al suicidio in Svizzera devo anche dire che questa non è più un'attività che porto avanti da solo perché negli altri due casi non sono stato io ad andare eh in Svizzera ma altre tre persone Felicetta Maltese Chiara Lalli e Virginia Fiume nell'ambito di una organizzazione che abbiamo creato appositamente con ventisette soci ventotto soci che si chiama associazione soccorso civile quindi effettivamente c'è una organizzazione di queste azioni di disobbedienza civile ma non è una organizzazione segreta nascosta i loro nomi e cognomi di tutte queste ventotto persone sono stati consegnati alle forze dell'ordine l'elenco completo ogni volta che si è aiutato qualcuno ad ottenere di terminare le proprie sofferenze eh in Svizzera in nel rispetto della legge Svizzera quindi voglio rivendicare da questo punto di vista la totale e massima pubblicità delle mie azioni sì non siete un'associazione di carbonari di massoni che fanno le cose di nascosto che fanno i sotterfuggi effettivamente una delle cose che io ho sempre stimato del tuo lavoro il fatto di dire serve fare dei gesti che facciano emergere un dibattito a livello pubblico però qua vorrei allora aprire una questione perché è anche la questione diciamo così che che mi ha spinto a volere tanto fare questa questa live senza aspettare il momento in cui ti liberasse dei tuoi impegni per venire qua ed è ovviamente la tua decisione di candidarti al senato della repubblica perché voglio collegare questi fatti perché una contestazione che ti è sempre stata fatta e io l'ho letta l'ho vista in passato è quella che marco cappato è un grande uomo un grande politico però si va a impelagare sulle battaglie di principio ok questo l'abbiamo visto non so mi viene in mente durante la crisi del governo draghi tu facesti la battaglia sul voto elettronico che era una battaglia legittima alcuni questionavano sulla sul tempismo di questa battaglia dicendo una battaglia importante in questo momento però viene spazzata via dal dibattito politico e altri momenti in cui diciamo così che poi anche l'ala radicale l'ala che in qualche modo ti ha rappresentato storicamente è una cosa che è sempre stata diciamo così imputata questa la politica tu adesso hai fatto un hai preso una decisione direzione che io credo in parte vada anche a rispondere a queste cose cioè marco cappato ha fatto le cose di principio in passato perché i principi sono importanti però dall'altra parte adesso riconosce anche non so la necessità di dare un ruolo ancor più istituzionale proprio queste battaglie allora la domanda che ti faccio è la domanda che ti faccio è cosa ti ha spinto ad addentrarti in questo percorso che sicuramente ti porterà gioie ma anche dolori perché insomma non credo sia una cosa così liscia e se qualche anno fatti saresti mai visto prendere questa strada ma guarda io non sono mai stato contro la democrazia rappresentativa i partiti le elezioni eccetera semplicemente ritengo che ormai la democrazia rappresentativa da sola sia totalmente inadeguata ad affrontare i problemi del nostro tempo sia per la complessità dei problemi del nostro tempo sia per il loro carattere trasnazionale nulla di quello di cui si parla ogni giorno dalle crisi migratorie dell'intelligenza artificiale le crisi finanziarie il clima nulla ha più una soluzione nazionale nulla riesce a trovare rispostine di breve periodo no riassumibili negli slogan elettorali quindi a mio avviso in sintesi o la democrazia viene diciamo integrata con intanto un ampio investimento tecnologico per la partecipazione dei cittadini un rafforzamento dei sistemi di partecipazione come referendum piattaforma digitale no per questo noi avevamo non il voto elettronico che gli esperti dicono non essere sicuro però la sottoscrizione digitale delle delle proposte referendari di iniziativa popolare e quello sì e poi ci sono innovazioni delle di riforme macron in francia ha fatto queste assemblee di cittadini estratte a sorte in irlanda in questo modo sono arrivati all'aborto legalizzato e al matrimonio egualitario quindi ci sono nuove tecnologie nuove forme di partecipazione che se non vengono integrate nella democrazia tradizionale per come la conosciamo la democrazia tradizionale perde senso e significato tra l'altro in questi anni da quando già da molto tempo che insisto con questa tiritera i tassi di partecipazione al voto sono crollati perché la gente ritiene sempre più inutile votare ma questo io non sono contento no c'era chi qualche anno fa diceva quindi allora liberiamoci dei parlamenti facciamo tutto su internet no assolutamente io non sono contento del fatto che il parlamento sia marginalizzato nella vita politica e sia considerato ininfluente nella società quindi questa volta si è presentata un'occasione particolare perché queste elezioni suppletive in brianza sono particolari è morto a giugno silvio berlusconi e silvio berlusconi era eletto nel collegio uninominale il sistema elettorale italiano è così incasinato che ci metteremo un'intera trasmissione a spiegarlo però diciamo che c'è tutta la lista dei partiti dei loro simboli coi loro candidati nel collegio elettorale sono collegati a una persona ma l'elettore non è libero di scegliere cioè se tu ti piace berlusconi ma voti partito democratico non puoi fare il cosiddetto voto disgiunto se tu hai votato fratelli d'italia automaticamente voti berlusconi e lo stesso con la legge questo fa sì che di fatto il sistema sia un sistema proporzionale dove dominano i partiti e le loro liste bloccate di candidati le elezioni suppletive sono diverse perché sulla scheda in brianza 55 comuni della provincia di monza in brianza ci sarà soltanto per ciascun candidato il nome e un solo simbolo non c'è l'elenco dei partiti e dei candidati quindi assomiglia paurosamente per chi ne ha paura splendidamente per me a un'elezione all'americana chi prende un solo voto in più vince allora che cosa ho fatto io che mi ero finora rifiutato per concorrere alle elezioni di accettare di entrare in questo o quel partito ho messo avanti la mia candidatura senza averla concordata con nessuno con 300 firme ci si può candidare quindi ho detto io mi candido chi si riconosce nelle mie battaglie nelle mie idee ovviamente di alternativa a questa destra perché già il nome indicato dalla famiglia berlusconi per la coalizione di destra era quello di è quello di del presidente monza vice presidente adriano galliani ho detto chi si riconosce nella storia di galliani ovviamente si riconosce la storia di galliani chi si riconosce nella mia mi può sostenere ho potuto fare quello che ritengo si debba fare comunque cioè mettere al centro la persona e la sua storia invece che una scelta diciamo così di partito preso di fazione e di schieramento quello che è successo dopo anche se c'è voluto più di un mese di riflessione è che effettivamente dei partiti delle forze politiche che non sono alleate in parlamento perché fanno parte di opposizioni diverse che spesso si scornano le une controllate da calenda a conte da schline a magi socialisti volt radicali italiani eccetera tutti questi movimenti politici e partiti sono confluiti sul mio nome e quindi oggi la partita diventa obiettivamente una partita aperta che è che è iniziata da una persona da una proposta la mia con la mia storia di fianco al mio nome ci sarà un simbolo non di partito ma ci sarà scritto con cappato che però raccoglie io non sono ovviamente nemico dei partiti ho fatto parte di un partito per buona parte della mia vita il consenso di partiti forze politiche su quegli obiettivi no credo che sia un rovesciamento importante che sai prima dicevi la storia della persona se io vado a guardare invece la composizione del dei leader politici io mi rendo conto che la storia della persona è passata in secondo piano in modo drammatico cioè nel senso non se io prendiamo salvini o ellie schlein è veramente difficile ricostruire una storia nel senso cos'è che hanno fatto vabbè schlein evidentemente poco perché ovviamente appena salita in carica come segretaria del pd però salvini che ormai insomma in carica a come come a capo della lega c'è da tanto la sua storia politica no tu ti ricordi le spaghettate ti ricordi le dichiarazioni però non ti ricordi dei rischi che uno si è preso delle battaglie di principio allora qui qui volevo proprio arrivare perché le tue battaglie di principio che hai portato avanti in passato che in passato venivano usate per anche criticarti oggi diventano ciò che ti fa riconoscere come politico ed è molto importante questo perché diventa quasi più importante il metodo del merito delle singole posizioni cioè ovviamente mi faccio la domanda da solo no ci sono almeno 80 temi sui quali la mia posizione non può coincidere con quella di calenda che non può coincidere con quella di conte cioè se uno dovesse fare politica guardando alla purezza ideologica della condivisione totale con il rappresentante politico ovviamente nessuno potrebbe votare nessuno e nessuno potrebbe allearsi con nessuno quindi in italia purtroppo si fa questo gioco si dice sempre prima i programmi no poi in realtà prima le coalizioni poi vediamo che giustificazione ideologica possiamo mettere dell'esserci alleati o no allora è chiaro che alcune mie sensibilità liberali potranno piacere di meno a un elettorato no più di una certa sinistra sinistra alcune mie battaglie sui diritti civili potranno piacere di meno a un elettorato che segue maggiormente le indicazioni del vaticano sui temi etici la mia sensibilità di sui temi ambientali potrà e potrei fare un lungo elenco di disaccordi possibili io penso che se ho una possibilità di battere galliani è proprio perché anche chi non condivide tutto mi verrebbe da dire che nemmeno io condivido tutto cioè tutto quello per cui mi sono battuto e mi batto in realtà può dire ok è meglio mandare in parlamento uno che ci mette la faccia e a voglia non vedo l'ora di andare lì e a portare anche in parlamento le proprie idee proposte oppure e poi c'è l'oppure no adriano galliani degnissima persona molto simpatico e sicuramente sveglio intelligente è molto bravo nel mondo del calcio è stato senatore ok quindi io voglio poter se ci fosse veramente le delle tribune politiche dove tu puoi parlare agli elettori cosa che purtroppo non esiste più no a me piacerebbe mettere no cosa ha fatto adriano galliani quando era al senato cosa ho fatto io in questi 14 anni io sono stato parlamentare europeo da giovane negli ultimi 14 anni ho fatto politica a parte il consiglio comunale di milano ma in per strada e attraverso le disobbedenze civili ecco io chiedo all'elettrice agli elettori della brianza di potere confrontare delle storie dei metodi e degli obiettivi non è che pretendo che su 155 temi si sia tutti d'accordo ovviamente ci vuole un'impostazione di fondo l'impostazione di questa destra secondo me è un'impostazione che guarda alla chiusura al nazionalismo poi è necessario andare a patti con l'europa con le cose però c'è quel tipo di società che poi è la società dei proibizionismi dello stato etico che ti dice no cosa è bene cosa è male fare io penso che un'alternativa a questa destra con tutte le differenze che in queste opposizioni ci sono possa essere improntata a un maggiore una maggiore fiducia sulla libertà e responsabilità individuale e anche a una maggiore sensibilità su temi come quello del rispetto per l'ambiente o della valorizzazione della partecipazione democratica prima detto una cosa molto importante facendo un cenno alla politica americana stato di tense che è una politica molto più incentrata sulla persona spesso noi ci dimentichiamo di fare il confronto invece la nostra una politica molto più burocratizzata in cui come dicevi prima c'è la struttura la struttura di partito la struttura proprio il carrozzone burocratico mi viene da dire in cui poi le persone diventano figurine intercambiabili un po come nell'indovina chi ok cioè la politica dell'indovina chi nella politica americana invece c'è molto più accentramento intorno alla personalità il carattere al carisma e via dicendo e qualcuno potrebbe dirti però attenzione però marco cappato la politica americana sta andando in una direzione terribile perché ormai i personalismi in quel caso lì trionfando hanno portato anche all'emersione di personaggi come trump e tutto quello che abbiamo visto com'è che la vedi questa questa cosa ma infatti io non sono un un adepto a critico del metodo politico americano che ha tantissimi problemi diversi dai nostri per esempio il soldo in america compra tutto in positivo si potrebbe dire che almeno lo fa in modo trasparente da noi non è che il soldo non conta ma spesso conta in un modo più più però è anche vero che l'assenza di limiti di spesa di regole alle spese di campagne elettorali ormai ha creato questi enormi soggetti di diritto sono un po' ambigui nel diritto americano che sono queste non sono i partiti ma sono queste organizzazioni che stanno a metà tra la politica e il no profile che di fatto fanno coinvolgere convergere miliardi di dollari su e e questo sistema delle cosiddette porte girevoli per cui in america uno un giorno è amministratore delegato di una compagnia e il giorno dopo il ministro per regolare quella stessa cosa per la quale era amministratore delegato della compagnia e poi l'anno dopo torna nella compagnia anche questo esiste in italia ma in america è così spinto da avere ormai corrotto le fondamenta della politica americana in modo diverso dalla nostra corruzione che sicuramente non è migliore in più la personalizzazione va governata va governata con la partecipazione popolare questo secondo me è molto importante perché anche in italia si sta parlando ora di presidenzialismo premierato eccetera la verticalizzazione del potere è una cosa anche positiva perché ti consente di non aspettare se tu devi prendere delle decisioni su temi urgenti cioè l'intelligenza artificiale in due anni ha completamente stravolto il modo in cui si comunica e quindi non è che puoi dire aspettiamo a si decidiamo tra quattro anni al tempo stesso però se il potere viene messo nelle condizioni di decidere anche rapidamente ci vogliono dei contropoteri forti una partecipazione popolare informata non a sondaggio permanente non a plebiscito continuo ma con una reale consapevolezza civica e dialogo dibattito non il monologo no del dei social della polarizzazione dei social ma un dialogo vero fatto anche di piattaforme pubbliche di discussione quello è indispensabile in italia ma devo dire anche molto indispensabile negli stati uniti d'america perché oggi sono molto meno un modello al quale guardare rispetto a quanto non fosse anche 15 20 anni fa ciò non toglie che secondo me il fatto che in america ancora si voti non perché vedo il simbolo del partito repubblicano o il simbolo del partito democratico ma perché vedo quella persona certo che ha vinto le primarie del partito repubblicano del partito democratico quindi è espressione di un filone politico ma che porta la sua faccina o il suo faccione a giudizio degli elettori quello lo ritengo un metodo positivo un aspetto positivo del sistema anglosassone c'è c'è una cosa a riguardo delle elezioni che poi nel 2024 credo che insomma vedremo vedremo veramente le elezioni più delicate credo degli ultimi decenni ormai questo lo si dice spesso ma questo è veramente importante e legge un articolo dell'economist qualche settimana fa in cui dicevano attenzione perché in realtà queste elezioni la campagna elettorale comincia con il processo a trump perché questo processo sta trasformando gli stati uniti anzi il popolo stato in una enorme giuria ed è veramente così ci pensi e allora vorrei porti questa questione perché una riflessione su cui cerco di districarmi da tempo io credo che la possibilità negli stati uniti di candidarsi presidente pur non solo da indagato ma anche da condannato uno può essere condannato in via definitiva e candidarsi come presidente degli stati uniti io credo che sia una 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 traccia della libertà che i padri costituenti hanno dato che che è da stimare cioè nel senso non c'è nulla fare uno poi può dire è ma che schifo uno che è condannato però è veramente la suddivisione reale dei poteri è talmente suddiviso il potere che nel potere diciamo così di di candidatura non può la magistratura mettere veramente un veto dall'altra parte però questo ha trasformato queste elezioni in veramente una elezione una sorta di referendum sulla democrazia perché perché mettiamo il caso lo scenario trump viene condannato in via definitiva poi in realtà definitiva sarà un po difficile perché sarà lungo e però poi effettivamente alle elezioni si candida e si tratta veramente di un di di un referendum sulla democrazia perché se da un scenario del genere trump dovesse venire sconfitto beh questo significa che quello che abbiamo detto in questi anni c'è la democrazia ai sistemi di riferimento per resistere anche a certe bordate incredibili è vero però se per caso invece trump dovesse vincere nonostante tutto quello che è successo e ovviamente la possibilità c'è quello potrebbe essere veramente un punto di non ritorno per i sistemi democratici come li conosciamo la questione è veramente delicata molto delicata però ricordiamo che trump è già stato presidente degli stati uniti d'america ha tirato alcune bordate gravi a mio avviso sul sistema del diritto internazionale la lotta ai cambiamenti climatici il trattamento dei migranti l'ambiguità nei rapporti con i dittatori di tutto il mondo e l'avere esplicitamente messo da parte la questione democrazia come una questione significativa per decidere con chi avere a che fare quali sono gli interlocutori privilegiati quindi io penso che la presidenza trump abbia fatto danni enormi il sistema è sopravvissuto in modo vitale i rischi ora sono più gravi però le scorciatoie tipo no allora quel punto dare ai giudici il potere di impedire a una persona di candidarsi nell'immediato possono anche arginare il problema nel lungo periodo però succede una cosa tipo italia manipolite 92 dove con un avviso di garanzia bastava che un procuratore inviasse un avviso di garanzia e il ministro cadeva e sono caduti governi in questo modo e che cosa c'è di democratico nel dare soltanto con l'avvio di un'inchiesta il potere di abbattere un potere democratico adesso indipendentemente da chi quindi ecco non ci sono quick fix dicono non ci sono soluzioni rapide immediate e veloci proprio per questo rafforzare è come sull'elettricità no la grande centrale elettrica però poi magari hai anche sistemi di energia distribuita odioso termine che va di modo adesso residenti no ecco allora forse rafforzare anche sistemi di democrazia distribuita che non siano cancellabili con un tratto di penna e che quindi possano resistere anche e coabitare con un potere a vocazione autoritaria secondo me è la grande sfida delle democrazie cioè evitare che ci sia una concentrazione unica di potere al vertice ma creare una grande serie di contropoteri democratici alla base che abbiano delle garanzie costituzionali affinché non possano essere spazzate via in pochi mesi sai questa a me piace sempre sentirti parlare di questo perché tu hai questo questo ottimismo che poi io in parte condivido assolutamente però cerco di fare l'avvocato del diavolo qua e di porre qualche qualche questione scottante mi pare che soprattutto dopo la pandemia la parte non dico la maggioranza perché non è vero però la parte attiva della popolazione sia a livello democratico quindi elettorale ma anche a livello proprio comunicativo dimostri il contrario cioè quello che tu delinei questa democrazia distribuita va verso due fattori fondamentali uno è quello che dicevi già una ci vuole un popolo informato per questo e già questa è una bella battaglia visto quello che sta accadendo però dall'altra parte ancora più importante deve esserci un popolo di persone che vogliono le responsabilità cioè vogliono che le conseguenze delle proprie decisioni ricadano sulla propria responsabilità nella propria vita questo mi sembra che culturalmente sia estremamente poco di moda mettiamola così ebbene la politica una grande responsabilità perché le neuroscienze ci stanno dicendo in questi anni quanto debole e facilmente ingannabile è la mente umana quanto e no parliamo dei social della polarizzazione sui social network eccetera è evidente che l'esperienza utente cioè queste l'endorfina che ci scatta se facciamo like no questo questo un po questo piacere che poi abbiamo anche alla rabbia all'empatia questa cosa molto emotiva le grandi piattaforme tecnologiche ci fanno i soldi sopra ok lo stato avrebbe la responsabilità di creare sistemi altrettanto gradevoli user friendly no amici dell'esperienza dell'utente ma che invece di venderci della roba rendano gradevole la partecipazione il coinvolgimento perché il popolo non è né buono né cattivo non è né riflessivo né né ottuso dipende dalle modalità con le quali lo si vuole coinvolgere lo si vuole fare discutere infine pandemia noi abbiamo lanciato il referendum eutanasia cannabis tutti quanti ci dicevano ma figurati se dopo due anni di pandemia poi ai giovani non gliene frega nulla di nulla figurati se la gente ha voglia di sentire parlare di abbiamo raccolto più firme di quante non siano mai successe nei referendum nella storia d'italia perché in realtà c'era una voglia di partecipazione enorme certo poi arriva non voglio riaprire tutta la vicenda no la corte costituzionale giugniano amato foto a tom e quella roba lì la sega le conseguenze sono molto serie molto gravi io non penso che il popolo abbia voglia di partecipare o che il popolo non gliene freghi nulla dipende dal tipo di investimento che lo stato l'europa vuole fare per rendere più semplice facile fare partecipare il popolo poi è chiaro che quando i temi sono molto delicati e complessi questa cosa strana delle assemblee dei cittadini estratte a sorte ma non è che li estraggono a sorte e poi li fanno decidere straggono a sorte e li fanno passare da settimane e settimane di approfondimento noi faremo a milano per chi volesse registrarsi per essere eventualmente estratto a sorte dal sito dell'associazione luca cosciori la prima assemblea civica estratta a sorte in italia sul tema della cosiddetta genitorialità sociale quindi fecondazione assistita adozione delle coppie dello stesso sesso gravidanza per altri tutte queste questioni molto delicate sulla quali la politica si scontra nel modo più duro con le slogan slogan contrapposti il modello è quello di fare dialogare con degli esperti e fare discutere ovviamente non puoi pretendere di prendere 60 milioni di italiani e costringerli no per giornate intere a discutere di gravidanza per altri però sono delle possibilità con dei campioni come degli esempi come si fa con i focus group per riuscire a ottenere proposte di qualità da cittadini che siano informati un po più degli altri ecco questi sono investimenti di aggiornamento della democrazia di innovazione democratica senza i quali effettivamente poi ragione tu prevale la disillusione ma perché tanto non cambia mai niente perché tanto sono tutti ladri perché tanto è e poi ovviamente cambia sempre di meno perché più si consolida l'idea che sono tutti uguali quello che è lì per fare affari è contento che la gente pensi che siano tutti uguali meno male pensa che siamo tutti uguali così io vado avanti a fare quello che facevo certo sai l'unica cosa che in questa in questo in questo affresco che è molto interessante perché questa questa idea dei gruppi di condivisione di ampliamento della conoscenza politica credo che sia sia una cosa che in realtà andrebbe fatta a priori cioè nel senso oggi manca una formazione civica e politica in modo drammatico una volta veniva fatta dalle cosiddette scuole di partito oggi non ci sono più quindi diventa veramente difficile però si si affianca un altro problema che secondo me fra le righe di quello che hai detto si sente tu marco hai una visione del mondo non solo dell'italia ma anche dell'europa insomma ne abbiamo parlato svariate volte di questo cioè tu tu sai qual è la direzione che vorresti far prendere o che tutti insieme prendessimo hai una visione hai una qualcosa a cui tendere e io trovo che nella politica di oggi e ne sono una prova insomma i salvini i crosetto e via dicendo non ci sia quella visione e cioè la io la chiamo è un paradosso delle delle scelte paralizzanti cioè la politica di fronte a tantissime scelte però se non c'è una visione se non c'è una visione di lungo termine ogni scelta vale qualsiasi altra non c'è più un legame uso una parola che sembra brutta però ideologico cioè non c'è più un'idea un ideale a cui far tendere e quindi questo si riflette nelle persone che quando devono scegliere politicamente ogni scelta vale l'altra e questa roba qua è difficile da risolvere ma in parte sarebbe anche un fatto positivo l'uscita da camicie di forza ideologiche per esempio vediamo non so la contrapposizione statalismo statalismo privatizzazioni libero mercato eccetera ancora un valore non è che sia superata però è evidente ormai che c'è un ruolo fondamentale che lo stato deve giocare nell'economia e bisogna vedere diciamo qual è questo ruolo no il ruolo di non solo di regolatore ma anche magari di formazione di aiuto alle persone più deboli e fragili quindi lo schema bianco nero funziona sempre di meno nella complessità della nostra società quindi questa è un'occasione in realtà perché nessuno si sente più totalmente rappresentato da una delega a qualcun altro perché magari tu mi rappresenti bene sui diritti sociali però sono contro le tue posizioni sui diritti civili oppure non mi piace la tua posizione sulla legge elettorale quindi le nuove tecnologie sono un'occasione fantastica per governare questa complessità questo però non toglie l'altra parte di quello che tu dici che è vera ci vuole un filo una chiave di interpretazione che possa in modo non ideologico ma tenere insieme un percorso di proposte io temo che in realtà questo governo alcune chiavi le stia dando perché questo riflesso pavloviano del fatto di aumentare le pene ogni volta che succede qualcosa strage di cutro aumentiamo le pene agli scafisti caivano aumentiamo le pene anche ai minori ai loro genitori uno dovrebbe dire ecco ci sono dei paesi dove prima di fare una legge bisogna fare un'analisi di impatto della legislazione cioè io dico ok vi dico che voglio aumentare le pene agli scafisti perché mi aspetto che aumentando le pene si produca un certo effetto in realtà in italia quello che incoraggia la criminalità è l'impunità che viene dalla paralisi della giustizia per cui aumentare le pene non ha alcun tipo di impatto poi sul comportamento delle persone perché in realtà le persone conta sul fatto di non incorrere o comunque che in tempi della giustizia biblici che arriveranno magari a effetto quando quella persona passati 8 9 10 anni io sono stato in visita al carcere di monza c'era una persona che era stata appena arrestata per un reato che aveva compiuto 12 anni prima e ormai era un padre di famiglia con un'impresa avviata eccetera io non voglio dire che quel reato sicuramente era un reato grave per il quale doveva essere punito ma non 12 anni dopo no allora tornando al punto mi sembra che ci sia un riflesso verbale legge ordine disciplina come proclama verbale inseguendo il fatto di cronaca per cui adesso che siamo con lampedusa al collasso non è che qualcuno dice ma com'è andata il decreto di cutro oggi no melone è andata all'onu a dire che la battaglia contro i trafficanti di uomini deve essere globale ma è come non è che è come la battaglia contro gli spacciatori cioè che se tu pensi di eliminare le droghe mettendo in carcere gli spacciatori e di eliminare l'immigrazione mettendo in carcere quelli che fanno che portano le barche per venire qua ma vuol dire che in realtà non ti stai attrezzando realmente per andare alla radice delle ragioni per le quali le persone che poi si drogano continueranno a drogarsi e semmai dovrebbero farlo in modo sicuro e senza dare i soldi alla mafia la camorra e l'andrangheta al tempo stesso le persone che vogliono cercare una vita migliore altrove dovrebbero avere la possibilità di percorsi legali dove si inseriscano nella società nel tessuto produttivo quindi non è che manchi cioè anche non avere un impianto ideologico ma rispondere alla giornata rischia anche quello di essere una impostazione cioè il non la non visione anche quella una visione è la visione di chi pensa guardando i sondaggi della giornata e le reazioni sui social che devi sempre rispondere hanno stuprato la persona la ragazza a palermo ecco allora vediamo come possiamo fare il decreto il decreto come se questioni del genere non affondassero le radici in no la formazione la scuola la prevenzione anche la repressione la repressione ma e quindi un sistema giustizia che deve tornare a funzionare perché oggi al collasso totale perché perché le forze dell'ordine sono impegnate a correre dietro a chi si fa gli spinelli a chi non ha i documenti in regola invece di occuparsi dei criminali veri i criminali veri sono quelli che fanno male agli altri non quelli che fanno male a se stesso certo certo e peraltro questo questo è un tema caldissimo perché la trasformazione è sempre più secondo me drammatica del politico in influencer il politico è sempre più un inseguitore di trend perché alla fine l'unico valore su cui legano molto spesso appunto quando manca la visione cos'è che vuoi vuoi il consenso vuoi il consenso popolare quindi tutti i trasformi gli influencer e che è una cosa l'altra faccia di questo è che poi quando le cose vanno male malissimo no a quel punto cosa facciamo in italia prendiamo il tecnico no draghi neanche ce li aveva i social perché perché la politica quella appunto democratica dei partiti eccetera è ricattata da questo meccanismo del consenso immediato ovviamente il consenso in politica importante in democrazia ma deve essere istantaneo no il sondaggio è quello di stasera deve funzionare stasera poi quando tutto sto tutta sta demagogia ha creato uno dei più grandi debiti pubblici al mondo il collasso delle istituzioni eccetera poi ogni tanto per tornare a fare un minimo quadrale le cose in europa eccetera eccetera allora noi chiamiamo il tecnico e hanno anche ragione quelli che dicono ma questo meccanismo non è tanto democrazio rispettiamo la forma perché poi draghi l'ha votato il parlamento però non è bello che ogni volta che bisogna combinare qualcosa siamo nei guai dobbiamo chiamare qualcuno che non ha mai preso un voto è non democratico per motivi diversi rispetto a quello che pensano loro cioè non democratico per la cosa sai in questo mi hai fatto venire in mente una delle cose io te lo dico io sono sono una persona molto stoica è difficile che mi incazzi però leggendo le cose dette dai 5 stelle su sull'inflazione e lo sconquassamento edilizio in questi giorni un po un po non riescono a non incazzare perché quando ci fu la misura del 110 per cento io feci delle puntate delle live ma anche con boldrine tante altre persone dicendo ragazzi guardate che una cosa succederà anzi due cose succederanno uno che fra tre anni siamo qua e anche soltanto cambiare la tettoia esterna per le bici di casa tua ti costerà il 500 per cento in più e tutti i materiali e tutti i lavori e le ore lavorate costeranno il 500 per cento più non ci non ci sarà nient'altro a e poi quelli quelli che veramente giavano i soldi si terranno più soldi di prima e viceversa no ma stai scherzando disfattista no adesso sta succedendo esattamente questa roba qua chi lavora nell'edilizia lo vede tranquillamente io c'ho familiari che ci lavorano quindi è sotto gli occhi di tutti e però no invece l'inflazione legata no alla guerra a questa è sempre colpa di qualcun altro però paradossalmente anche draghi il governo draghi giorgetti ministro tra l'altro ha mantenuto assolutamente il super bonus in una situazione dove forse la critica perché è più facile adesso dire adesso che la pandemia è finita ma noi non sapevamo allora quanto sarebbe dura se ci sarebbero state delle ricadute eccetera quindi secondo me il super bonus istintivamente 110 per cento allora più a più di 100 per cento siamo già nell'ordine del vento sia verrebbe istintivo da dire che io ti posso pagare se riconosco il valore pubblico di qualcosa ma non è che ti pago più di quanto ti è costata va bene questo è un punto di principio che ci fosse una iniezione di soldi nell'economia per un periodo molto limitato di tempo secondo me quella era una scelta giusta è il protarsi della misura in quella modalità che ha creato una distorsione però come è possibile che anche appunto con il governo draghi poi che che eravamo già in una situazione di emergenza minore di quanto non fossimo con il governo conte abbia mantenuto perché era anche lui uscito da quella fase nella quale qualsiasi cosa avesse detto e fatto tutti dovevano obbedire perché sennò andavamo al collasso e quindi lui stesso ha dovuto fare i conti con gli interessi la propaganda di partito eccetera e quindi in quel caso è cominciato a diventare un punto di debolezza non di forza quello di non avere una legittimazione diretta diciamo no di connessione con forza politica movimento eccetera e quindi quindi le cose poi chiaro che la si può ecco la semplificazione assoluta no draghi cancella la democrazia non aiutano a ragionare perché le cose si interfacciano ma io proprio per questo un anno fa avevo comunque provato a presentare la lista con la sottoscrizione digitale che ricordato tu e lo rivendico perché chiedevo a draghi di farsi carico di un problema che questa esenzione che alcuni partiti avevano con elezioni convocate in pieno agosto perché i comizi della consiglia delle firme era il 15 agosto figuriamoci autenticare decine di migliaia di firme il 10 agosto 15 agosto cosa poteva essere io volevo proprio porre a draghi una questione di democrazia cioè attenzione a sottovalutare tu che sei il migliore il tecnico di una capacità di un autorevolezza internazionale che nessuno contesta non sottovalutare quanto poi la questione di come funzionano le dinamiche basse quelle del della politica politicistica di come si fanno le liste eccetera non si può sorvolare sopra problemi così concreti del funzionamento della democrazia e infatti a me dispiace molto e lo credo che sia stato un limite di draghi ma non perché era la mia lista non avere prestato attenzione a questo tipo di problemi apparentemente piatti piatti banali ma senza i quali alle prossime elezioni succederà peggio perché ogni elezione in italia si fa peggio in problemi di regole della televisione di regole della candidatura di regole della campagna elettorale continua ad andare sempre peggio assolutamente assolutamente senti prima di passare poi le domande delle persone c'è un'ultima questione perché tu e soprattutto negli ultimi tempi ma anche durante questa chiacchierata hai spesso toccato il termine un progresso tecnologico come nuove tecnologie allora vorrei toccare con te questo discorso e come la vedi tu sul modo con cui l'europa sta approcciandosi a una delle nuove tecnologie di rilievo che è quella dell'intelligenza artificiale perché dico questo perché abbiamo visto negli ultimi due anni insomma l'hai detto anche tu degli avanzamenti incredibili soprattutto in questi ultimi nove mesi con cia gpt gpt4 e i modelli llm via dicendo siamo in mezzo alla guerra scusatemi il termine che in questo momento forse è molto meno che metaforico fra stati uniti e cina perché sono le due grandi potenze che portano avanti in europa l'intelligenza artificiale non solo è molto indietro leggevamo un articolo qualche giorno fa in cui si diceva che la startup più significativa e promettente è una startup tedesca che ha avuto un'iniezione di 100 milioni di euro che rispetto ai volumi della silicon valley della cina fa ridere certo è promettente però siamo ecco mi sembra che l'europa sia molto molto non solo cauta ma anche molto resti ad ascoltare queste cose anche perché poi qualche mese fa abbiamo visto insomma nuove opportunità di connessione globale come threads che era il twitter di facebook è stata bloccata in europa sappiamo che la regolamentazione di cia gpt ha creato delle problematiche non da poco anche soprattutto a livello proprio di una burocrazia e di una legislazione che in qualche modo possiamo dirlo sta rispondendo a un decennio in ritardo rispetto a quello che sta accadendo oggi quindi cos'è e com'è che vedi il futuro dell'europa in questa che è veramente un settore fondamentale per i prossimi vent'anni ma una parte dell'atteggiamento europeo secondo me è con tutti i limiti positivo cioè è necessario un impianto regolatorio che difenda in qualche modo il cittadino rispetto a manipolazioni e ad abusi il fatto di avere una delle legislazioni mondiali più restrittive sulla privacy alla fine sta diventando una caratteristica positiva dello spazio europeo cioè una caratteristica che che dà più fiducia all'utente e al cittadino di quanto non dia in sistemi dove tu qualsiasi cosa fai e compri in cina hai la garanzia che viene subito anche utilizzata dal governo centrale per profilarti per sapere per darti il punteggio addirittura della tua responsabilità sociale rispetto ai valori del partito comunista quindi che in italia in europa ci sia questa attenzione chiamiamola etica difensiva io lo trovo giusto cioè se uno faccio un esempio a caso se uno fa un video facendo finta di parlare francese ok con l'intelligenza artificiale beh secondo me è giusto che l'utente sappia che quello si è aiutato a sapere che è una manipolazione che non poi e quindi ci siano dei meccanismi di trasparenza e di responsabilità nell'utilizzo di queste tecnologie quello che manca a parte questo aspetto difensivo invece è l'aspetto propositivo cioè ci difendiamo ma non attacchiamo in che senso l'europa potrebbe spingere essendo ormai in ritardo sulla tecnologia pura quella dell'investimento di miliardi e miliardi e miliardi sulla potenza degli algoritmi e della dei dati che 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 li fanno funzionare l'europa potrebbe ricavarsi uno spazio nella intelligenza artificiale al servizio del cittadino cioè come servizio pubblico magari utilizzando quell'enorme quantità di dati dei quali la pubblica amministrazione è in possesso aggregandoli in una dimensione europea l'europa potrebbe essendo uno spazio democratico potrebbe avere se solo li raccogliessimo e li utilizzassimo ovviamente in forma anonima il più grande data set del pubblico del mondo per la partecipazione civica la democrazia ma anche i dati sanitari dati meteorologici dati cioè noi abbiamo un vantaggio competitivo sulla cina almeno di di non avere di avere diciamo un sistema di potere che non dovrebbe avere paura di quello che pensano i cittadini di quello che vogliono i cittadini e quindi dovremmo poter valorizzare questo ovviamente servirebbero enormi investimenti non quelli nell'ordine delle poche centinaia di milioni ma investimenti pubblici comparabili a unice ma dove sono i soldi beh attenzione noi come unione europea una gran parte del bilancio è destinata a sovvenzionare l'agricoltura che poi non è nemmeno l'agricoltura sono gli allevamenti intensivi quindi secondo me esiste un grande margine da un punto di vista economico per spostare gli investimenti dell'unione europea dalla sovvenzione di industrie che non è che io vorrei chiudere però vorrei che almeno non fossero sovvenzionate anche per ridurre vabbè questo poi andiamo in un'altra questione che è quello insomma ci sono che quello degli allevamenti intensivi eccetera ci sono delle poste di bilancio che possono essere andate a toccare per fare dell'europa una area geografica del mondo dove si investe per un'intelligenza artificiale che invece di volerti vendere qualcosa nel modo sempre più sofisticato o volerti monitorare censurare controllare nel modo sempre più invasivo ti aiuti proprio i cittadini più ignoranti quelli che non stanno in rete quelli meno digitalizzati aiutarli in modo semplice nella loro vita quotidiana qui c'è un'opportunità che l'europa sta mancando a mio avviso la speranza è quello che riescono a vederlo io cosa vuoi la percezione che ho è che è una percezione che mi porto dietro da qualche anno ormai è che se da un lato la burocratizzazione permette una regolamentazione più attenta più attenta al cittadino e via dicendo dall'altra parte rischia veramente di farci di marginalizzare sempre di più quindi serve veramente una svolta e di nuovo serve una visione cioè mi sembra che ci siano poche persone laddove le decisioni contano mettiamola così anche se è una brutta espressione per farmi capire dove si dica questa è l'europa che vogliamo fra 30 anni fra 40 anni siamo molto abbarbicati alle cose di breve periodo che è un peccato se ci pensi perché se una cosa dovevamo imparare dalla pandemia è due cose uno da soli non ce la facciamo e questo comunque non lo stiamo imparando soprattutto in italia due serve una decisione di lungo periodo per capire dove andare e queste due cose secondo me stanno ancora latitando molto e quindi speriamo insomma speriamo senti qua marco allora io intanto beh vabbè ti faccio un enorme enorme non so come si dice sai quando si fa uno spettacolo a teatro c'è il merda 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 prima delle lezioni non so cosa cosa ci sia da dire io non sono superstizioso quindi mi puoi fare auguri in bocca al lupo allora ti faccio un in bocca al lupo enorme per questa tua nuova avventura che io spero vada nella direzione che ritieni più 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 desiderabile per te te lo meriti quindi insomma poi insomma dopo giulia pastorella e daily cogito avrà un altro amico fra i poteri fortissimi quindi insomma ormai ragazzi cominciamo cominciamo a dominare scherzi a parte veramente ti meriti di avere i risultati che vuoi io direi che se sei d'accordo adesso passerei a qualche domanda perché in chat ci sono più di 600 persone che sono qua insomma vogliose di farti delle domande prima di fare questo io chiudo la puntata per chi sta vedendo indifferita quindi grazie per aver seguito ovviamente andate sul sito marco cappato punto it per vedere i punti del programma della proposta che marco fa per le elezioni del senato queste sublettive è una occasione importante siete della brian ecco ricordiamo votano le elettrici e direttori residenti dei 55 comuni della provincia di monza e brianza si vota il 22 23 ottobre lo ricordo anche perché di solito alle elezioni suppletive siccome non c'è da decidere no il presidente del consiglio del governo eccetera eccetera alla fine non va mai nessuno a votare e quindi c'è una disinformazione profonda invece credo che la posta in gioco per questo seggio che fu di silvio berlusconi potrebbe essere un segnale interessante una domanda busto arsizio fa parte dei comuni no dannazione perché busto arsizio è un nostro è un nostro comune molto amato e lo citiamo molto spesso quindi niente però scriviamo a luca berri che è della brianza per dirgli vai a votare mi raccomando quindi veramente andate sul sito guardate e se siete coinvolti andate a votare io spero che con questo daily cogito un po di un po di persone scoprano questa cosa mi raccomando votate bene io saluto tutti quelli che hanno seguito grazie a mario resta con noi che adesso facciamo qualche domanda e noi ci rivediamo con le prossime live della settimana ciao